Per quanto mi riguarda la presentazione delle opere legate al Polo Museale di Castronuovo nello specifico al MIG, Museo Internazionale della Grafica è composta da 24 opere e da 18 libri sia le opere che i libri sono strettamente legati alla regione i 24 artisti sono stati tutti a Castronuovo e oltre che Castronuovo hanno girato la Lucania spesso si sono ispirati durante questi viaggi e a partire da Venna che dal 62 fu a Maratea e quella litografia si chiama appunto Visione di Maratea fino a Giulia Napoleone, fino a Gates basta che voi girate e leggete i nomi e rendetevi conto chi è passato dalle nostre terre per quanto riguarda i libri che fanno parte sempre della biblioteca indestata a mio padre sono libri d'artisti dove tre editori, la cometa, Sheville e l'Arco nel giro di 50 anni in più collane hanno cercato di raccogliere i testi scritti da tanti artisti a partire da tanti scrittori a partire da Ungheretti ad arrivare a Brandi sulla Lucania e questi testi sono illustrati da artisti internazionali oltre che Lucani e tra questi, visto che mi sta a fianco cito Mauro Masi grazie